buongiornissimo sono il sintetizzatore vocale di google e per qualche strano motivo questa musica ha una voce terribile non voglio domande non chiedetemi perché corroid ha avuto questa idea del cazzo oh sta arrivando il drop sarà di sicuro uno schifo musica elettronica di merda fai pure il drop più singolo al mondo bravo bravo ma io lo faccio oh aspetta che cazzo è successo capisco è saltato il disco come sempre la mia solita sfighe di merda ma quanto cazzo dura questa trofa ah finalmente è un po' cambiata è un po' cambiato ma io faccio è un po' cambiato è un po' cambiato è un po' cambiato ma io faccio